Cina e Iran inaugurano la nuova era delle loro relazioni. A Teheran, Repubblica Islamica e Giganti Asiatico hanno siglato 17 accordi che spaziano dalla politica alla sicurezza fino alla cooperazione sull'energia nucleare. Il presidente iraniano Hassan Rouhani e quello cinese Xi Jinping, primo leader del Dragonia, a visitare il regime degli Ayatollah da 14 anni, hanno annunciato una vasta strategia commerciale. Abbiamo discusso delle relazioni strategiche tra due paesi che saranno regolate nei prossimi 25 anni dal documento che abbiamo firmato. L'aggiornamento dei rapporti bilaterali si terrà tra dieci anni. Abbiamo deciso di aumentare gli scambi commerciali fino a 600 miliardi di dollari. Pechino è il principale destinatario delle esportazioni petrolifere iraniane e più di un terzo del commercio estero di Teheran avviene con la Cina. L'interscambio fra le due nazioni nel 2014 ha raggiunto un valore di 52 miliardi di dollari.